Caffè Bleu, in bistro radiofonico e televisivo di RBA, RBA Radio TV in Piemonte sul canale 87 in TV potete guardare e ascoltare le nostre trasmissioni. Ovviamente siamo anche radio in Piemonte e in Liguria, dalle montagne al mare, ovunque voi siate su rba.it dove trovate diversi articoli che riguardano il festival Imaginè che oggi in questa puntata speciale vi raccontiamo direttamente da Vernante. Imaginè è anche questo, la possibilità di poter incontrare autori e autrici, coloro che introducono con il loro lavoro la loro professionalità, tanti ospiti, tanti visitatori e visitatrici e partecipanti ai laboratori e agli incontri e alle presentazioni di libri. In questo momento abbiamo con noi una illustratrice, un'autrice di libri per l'infanzia che abbiamo già avuto modo di incontrare su RBA, Roberta Angaramo. Buongiorno Roberta, ciao. Buongiorno Claudio. Ben arrivato, bentornato. Noi ci avevamo sentito al telefono, finalmente ci vediamo qui a Vernante per Imaginè. Hai con te un libro, un bel libro, con un bradipo? Sì, esattamente. È il bradipo. È il protagonista di questo bellissimo libro scritto da Chiara Carminati e pubblicato da Rizzoli. Lemmi, lento lento. A me Lemmi è epoca Lemme Lemme, andiamo piano piano. Com'è nato questo nome? È stata la fantasia di Chiara? Come vi siete confrontate? Allora, questo libro è nato in realtà in America perché è stato pubblicato in prima battuta dalla Holiday House Publishing di New York e il nome di questo bradipo in realtà era Slambai. Ok. Dopodiché nel momento in cui la Rizzoli ha deciso di pubblicarlo in italiano ci siamo consultate, c'è stato un lungo lavoro di redazione con Chiara e con le redattrici della Rizzoli e insieme siamo arrivati a questo nome che secondo me esprime benissimo il carattere. Esatto. Il carattere, quindi Lemmi, lento lento. A me piace anche il suono, come suona il titolo ed è molto interessante. Ecco, abbiamo parlato con Alicia dell'importanza della copertina. In questo caso noi possiamo vedere appunto in copertina una tua illustrazione e c'è appunto il nostro amico Lemmi in una posizione che ricorda un po' quella dello yoga, diciamo, ha queste gambe, gambe, gambe incrociate e in questa posizione con delle fio di loto, sembra quasi qualcosa del genere, sembra seduto in una posizione con tanti altri animali che ballano, insomma, sono in un momento molto molto allegro evidentemente. Ha un bel sorriso Lemmi e soprattutto è importante perché si lega al sottotitolo Respira, sorridi e vai piano. Questo è un po' il filo conduttore della storia che avete realizzato tu e Chiara. Sì, è il fulcro diciamo, perché appunto il primo titolo di questo libro era in inglese Respira, sorridi e vai piano, che è il punto fondamentale perché Lemmi è un bradipode, è molto lento, vive felicemente nella foresta pluviale finché non inizia la scuola. E con la scuola iniziano un po' i suoi guai per lui perché è molto difficile per lui fare le cose veloci e quindi vestirsi velocemente, giocare con gli altri animali della foresta. E in qualche modo le difficoltà gli tolgono un pochino quello che è il gusto di andare a scuola finché accade questo evento molto particolare che cambia la sua immagine di fronte ai suoi compagni di scuola. E a quel punto loro iniziano a vederlo in modo differente e ad apprezzare la sua unicità, anche la sua calma e il suo vivere le cose appunto in modo lento. Quello che amo di questo vostro lavoro, di questo tuo libro Roberta, come spesso accade anche in altri libri, in altre pubblicazioni, è quello di avere dei sottotesti, dei messaggi che vogliono comunicarci, vogliono raccontare, credo non solo ai bambini e alle bambine alle quali il tuo lavoro è rivolto, ma anche a noi adulti, mi metto in mezzo anch'io. C'è un grande insegnamento, anzi più direi di insegnamento in questo tuo lavoro, innanzitutto il ritmo al quale siamo tutti e tutte coinvolti e coinvolte, in questo caso c'è proprio un invito a rimanere se stessi e anche ovviamente ad avere un ritmo diverso della nostra vita. Sì, esattamente. E come dicevo, nel titolo Respira, Sorridi e Vai Piano c'è un chiaro riferimento a quello che è il libro di Thich Nhat Hanh, che è molto famoso appunto che Respira, Sorridi e Vai Piano, e che è un invito proprio a cambiare il nostro ritmo nella meditazione attraverso il camminare appunto e tornare anche un po' a metterci in contatto con noi stessi. Infatti è vero che Lemmi è un libro per bambini, ma per la Rizzoli e soprattutto per la redazione della Rizzoli, loro lo considerano un po' un crossover anche, come dici giustamente tu, perché il messaggio può parlare a tutte le età. Viviamo in un momento di grande cambiamento, in cui questo mettere in discussione in fondo la velocità, la fretta, che ci obbliga sempre ad uscire un po' da quella che è la nostra dimensione personale, la nostra armonia anche, no? e felicità del vivere. Secondo me questo libro può portare una piccola riflessione divertente, sempre sorridente, ammiccante per i bambini, però su un punto che ha un senso per tutti. Un'altra curiosità che ho rispetto al tuo lavoro, Roberta, riguarda i personaggi che tu disegni e illustri. La scelta del Bradipo si collega ovviamente alla lentezza, però so che nel racconto sono anche molto importanti i personaggi secondari, il villain, insomma i personaggi che si rapportano con il protagonista o con la protagonista. Vorrei citare un personaggio in particolare che è quello del formichiere, il maestro. Come è nata questa scelta? Perché il formichiere? Come vengono scelti questi animali che poi si trasformano in antropomorfi? Cioè ricordano noi? Ecco, questa è un'altra domanda che ti... Sì, allora in questo caso ma lavorando per il mercato americano richiedono sempre una scelta di personaggi e quindi di animali che fanno parte dell'habitat di Lemmy in questo caso. Lemmy vive nella foresta pluviale per cui io dovevo cercare personaggi all'interno di questo habitat. Ho scelto il formichiere come insegnante per fare l'insegnante perché innanzitutto è molto divertente, il trovo molto buffo e poi ha questa proboscide lunga, questo lungo naso con cui raccoglie le formiche con molta pazienza e la scena principale del libro è quella di Lemmy che arriva in ritardo come sempre a scuola e questo maestro invece di sgridarlo non riesce a sgridarlo perché lui è talmente sorridente che non riesce assolutamente ad attrarre comunque la rabbia. Vorrei parlare con te, Roberta, anche di questo aspetto, cioè la capacità dell'illustrazione, del disegno, del fumetto. Abbiamo esempi celebri e iconici nella storia appunto del fumetto di tutto il mondo, della scelta di un animale per rappresentare noi stessi, quindi un animale che diventa antropomorfo come in questo caso, un animale che cammina, un formichiere che ha il suo vestito, insomma siamo pieni di queste immagini, nasciamo con questo. Ecco, quanto è importante, che cosa ci trasmette questa voglia, insomma di, o questo tipo di comunicazione, ecco perché è così importante, che cosa, noi che cosa vediamo in questo? Tu parli dell'antropomorfizzazione, è sicuramente una cosa molto antica perché se guardiamo la storia dell'illustrazione è un tipo di rappresentazione che nasce dalla satira ed è divertente perché, come nel nostro caso, la caratteristica dell'animale diventa immediatamente riconoscibile simbolicamente con quella che è la caratteristica del personaggio stesso. Per cui è un po' questo il gioco di base che sta alla base di questa scelta. Siamo ospiti del centro visita di Vernante, della Valle Vermenagna per Immaginè, Immaginè piccolo festival di narrazione per figure. Qual è il tuo stato, il tuo impegno, il tuo ruolo, in cosa sei stata coinvolta qui a Immaginè? Sono stata coinvolta in una serie di laboratori molto molto divertenti all'interno delle scuole dell'infanzia di Roccavione, Robilante, Vernante e poi il laboratorio, il bellissimo laboratorio che abbiamo fatto su Lemmi appunto al centro di Vernante. Ed è stata un'occasione per me di incontrare i bambini, di raccontare, di leggere questa storia e soprattutto di farli dipingere perché il fulcro di tutto il mio lavoro è quello. E di riportare i bambini proprio al divertirsi attraverso la pittura, la creatività con pennelli, colori, sporcando, tutte quelle attività che si tendono a fare un po' meno in questo momento. Per tanti motivi, nel senso che è difficile anche andare a strutturare un laboratorio all'interno della scuola. Ma le insegnanti di questo territorio si sono dimostrate invece molto ricettive e molto, soprattutto molto partecipi. Mi sono piaciuti come anche i bambini, li ho trovati molto divertenti e molto vivaci anche, in un senso positivo e interessati. Ottimo. Quindi un lavoro importante è quello della formazione, quello del trasmettere, insomma, il gesto della lettura, il gesto del libro, che sono dei gesti che sono sempre importanti e fondamentali, a mio parere, che fin da bambini ormai. Ecco, tra l'altro il laboratorio è rivolto dai 0 ai 3 anni, il laboratorio qui a… Dai 3 ai 6. Dai 3 ai 6. Sì, perché mi piace creare questi gruppi misti anche di età, perché i 3 ai 6 è la fascia più o meno d'età indicata per questo libro, che come ti dicevo in realtà può avere una fascia più ampia. Ma è molto bello vedere i bambini piccolini lavorare con i bambini un po' più grandi, perché c'è uno scambio molto forte, perché quelli grandi ovviamente fanno un po' da esempio a quelli piccoli, che sono molto più stimolati a fare cose, a mettersi in gioco in qualche modo e a fare cose più difficili. Per cui c'è un'osservazione anche dei loro comportamenti che mi piace fare. Bello, bello. Stai lavorando qualche album in particolare, progetti futuri, dove possiamo trovare i tuoi lavori anche sul web? Allora, io in questo momento sto terminando, sono nella fase appunto di colorazione delle tavole di questo libro che si intitolerà Hot Cat e Cool Cat, che verrà pubblicato dalla Holiday House Publishing di New York, esattamente come il libro di Lemmy. Sì, ho un sito in fase di aggiornamento che è www.roberta.angaramo.com e poi mi trovate su Instagram, chiocciola roberta.angaramo. Angaramo, ok. Un'ultimissima domanda riguarda l'editoria, l'editoria anglosassone oltreoceano, quella europea, sensibilità differenti o trovi comunque un filo conduttore, qualcosa che comunque lega la capacità insomma dei bambini che passa le frontiere, passa anche, è unica come sensibilità? Hai trovato, hai avuto dei feedback in merito immagino? Allora sì, io lavoro per case editrici di tutto il mondo in realtà. Per Taiwan ho visto, vero? Sì, sì, per la Green Press di Taiwan con cui collaboro da tantissimi anni e sicuramente ogni mercato ha le sue caratteristiche particolari. Il mercato americano nella fattispecie è molto vasto come puoi immaginare, per cui di solito ricevo delle richieste ben precise, come dicevi tu, ad esempio sulla copertina, che per loro è un must, è fondamentale, ci sono sempre delle riunioni col gruppo marketing e la parte invece della redazione in merito alla copertina perché è quella che fa vendere il libro. Le caratteristiche, diciamo estetiche, sono tante, però la bellezza di un albo alla fine le supera tutte. Perché quando un albo è bello, è stato fatto bene, è stato fatto a regola d'arte, in realtà viene pubblicato e ripubblicato su tutti i mercati e quindi va un po' ad uscire da qualsiasi tipo di regola. E questa è la bellezza dell'illustrazione secondo me. Passa davvero i confini e le sensibilità perché immagino che a Taiwan e in Europa in realtà invece sì, l'illustrazione sa unire evidentemente più culture apparentemente distanti. Bello, mi piace. Abbiamo avuto il piacere di parlare, di conoscere meglio nei dettagli il lavoro di Roberta Angarano che ringrazio. Bocca al lupo, vive il lupo, per ripeto la vota. Viva super il lupo. Sempre, sempre via. Grazie Claudio.